Milano, Parigi, Roma continua il nostro viaggio nelle capitali della moda. A Milano per seguire le collezioni dell'uomo, a Parigi l'autocouture internazionale e a Roma l'alta moda italiana. Sulle passarelle sfilano gli abiti del prossimo millennio. TV Moda, la moda in tv. Dall'uomo oggetto sì, ma oggetto del desiderio passiamo alle donne sexy e seducenti dell'alta moda di Anton Giulio Grande. Dall'uomo oggetto. Dall'uomo oggetto. Dall'uomo oggetto. Dall'uomo oggetto. Dall'uomo oggetto.